A Roseto degli Abruzzi questi sono giorni cruciali per i due candidati al ballottaggio. Mario Nugnes di un ampio movimento civico e William Di Marco del centrodestra cercheranno di convincere gli elettori rosetani. Per i due candidati intanto sarà fondamentale riuscire a portare alle urne il popolo che li ha scelti nel primo turno e soprattutto riuscire a convincere una buona fetta di quanti avevano votato i candidati sconfitti. L'ultima notizia è che il Partito Democratico ha annunciato di appoggiare al ballottaggio Mario Nugnes, una presa di posizione netta che rende ancora più interessante la sfida tra Nugnes e Di Marco. Roseto è una città che a detta di tutti ha sviluppato una forte socialità negli anni, cioè una città che era diventata un fiore all'occhiello per il sociale. Allora io il sociale lo voglio estrapolare da quello che è solo il terzo settore. Il sociale è quella realtà in cui le persone, relazionandosi, riescono a risolvere dei problemi. La partecipazione, quindi calata dal sociale a tutti gli ambiti, diventerà il punto di forza della mia amministrazione. Cioè noi ritorneremo con i consigli di quartiere a far incontrare le persone. Noi ritorneremo con i tavoli tematici che noi istituzionalizzeremo, quindi le consulte del turismo, dello sport, del terzo settore, del volontariato, della cultura, delle mamme e dei papà. Ci sono tutte consulte che noi abbiamo scritto nel nostro programma certificato di 58 pagine. Saranno tutti strumenti a costo zero, ma a grande impegno di tempo, come dicevo prima, che permetteranno a chi vorrà, e credo che sono molte le persone, di impegnarsi. Lo abbiamo visto, se sono stati 328 i candidati in questa elezione, evidentemente al netto del parenti, amici, ma deve esserci un forte bisogno di impegno, altrimenti le persone non avrebbero firmato una candidatura. Allora noi vogliamo ripartire da quel dato, c'è voglia di partecipare da questa partecipazione e poi dobbiamo sviluppare degli asset, cioè degli impegni seri. Il problema principale di Roseto, non degli ultimi cinque anni, ma credo che sia molto di più, è quello proprio del decoro, dell'incuria, della manutenzione. Questo è il primo passaggio, anche perché è un passaggio di tipo visivo e noi dobbiamo saper curare l'aspetto visivo da un lato, ma l'aspetto della bellezza, cioè il decoro appartiene alla vita cittadina in quanto è un innalzamento del sentire personale, etico, come posso dire, morale della persona, cioè la bellezza va innalzata anche perché noi viviamo di bellezza, non per niente ci vestiamo in un certo modo, non per niente ci confrontiamo con gli altri, non per niente amiamo l'arte, perché l'arte ci fa innalzare, è una sublimazione dello spirito. Quindi se noi curiamo la bellezza non è soltanto una questione di funzionalità, è una questione di vivere meglio e io credo che tutti quanti, più o meno, insomma, abbiano avuto le esperienze di andare in queste città anche dell'Italia, del nord, dei paesini, di montagna, soprattutto all'estero, dove la bellezza, della cura del territorio è la cosa fondamentale e hai un impatto che è diverso. Quindi la questione del decoro, la questione della manutenzione, la questione di far sì che le cose possano essere funzionanti è uno dei primi presupposti per cambiare il rosetto, poi ci sono ovviamente, da questo si aggiungono altre cose.